52 anni e non sentirli, ovvero confrontarsi ad armi pari con giovani e meno giovani e far vedere ancora di che pasta è fatto. Per la prima volta o quasi su una Gruppo N, il finlandese in Costa Smeralda ha ancora una volta dato spettacolo, cogliendo alla fine il quarto posto nell'assoluta e il primo tra le vetture di serie. Per lui, lo spilungone di Helsinki, correre in Sardegna è un po' come ritornare a casa in un rally che lo ha visto protagonista di vertice con tante vetture e in tante edizioni. La stella dell'edizione numero 21 del Costa Smeralda è stata proprio lui, Mark Wall, l'uomo dai 20 rally mondiali vinti. Il campione che nel suo palmarès non ha nessun titolo gridato piloti, ma solamente una Coppa Fiat, quella del 1978, vinta con una Fiat 131 Abarth l'anno prima che il titolo mondiale piloti fosse istituito. In gara, come detto Marco, non ha certamente tradito le aspettative, cogliendo un prestigioso risultato, nonostante che nella prima tappa il cofano motore mal fermato si fosse aperto improvvisamente in prova, spaccandogli il vetro anteriore. Il minuto e mezzo perso nei confronti di Pianezola, il finnico se l'è poi ripreso nella seconda tappa, superando il rivale per soli tre decimi di secondi. Per me, come Sertso, ho fatto un anche bellissimo gara, perché noi un po' problemi ieri, come generale, in cui ho guidato bene, noi arrivato sempre massimo, più di limite, prima di ultima, noi un po' problemi ammortizzatori, come Otsi, noi tirato, non lo sai, più di ultima, più di massimo, noi vinto un secondo. Bello, bello così. No, niente secreto in questo mio isolo. Io penso sempre con questa Smerara Ralli anche, come noi fatto qua in 70-80 con Fiat dopo lancia e tutto così. Grazie.